Da oggi quindi il cittadino non ha bisogno di spostarsi da casa, è il comune che attraverso lo smartphone porta i suoi servizi dal cittadino. Si chiama Mai Montevarchi ed è la nuova app del comune per usufruire dei servizi comunali e per essere aggiornati in ogni momento senza doversi spostare da casa, ma utilizzando semplicemente lo smartphone. Con tutta una serie di facilitazioni il comune può comunicare sulla propria attività, sugli eventi in programmazione, il cittadino può prendere gli appuntamenti direttamente dalla app e cosa ancora più importante fare segnalazioni addirittura fotografando l'evento da segnalare e addirittura rivolgere al momento 7, poi verranno estese altre 11, domande particolari. Si va dalle agevolazioni unitari alla richiesta di contributi al comune, alla possibilità di iscrizione dei propri figli all'asilo nido e così via. Quindi un servizio importante che va verso un comune moderno, digitale, che è vicino al cittadino e che vuole essere sempre al passo con i tempi per poter migliorare l'opportunità di usufruire dei nostri servizi con il minor tempo possibile. Il nuovo sito web e l'app MyMontevarchi, dal costo complessivo di circa 48.000 euro, rientrano in un progetto più ampio sulla digitalizzazione voluto dall'amministrazione comunale, che sarà realizzato con risorse PNRR per 280.000 euro, già approvato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale del Ministero dell'Interno. Siamo uno tra i primi comuni anche della provincia di Arezzo ad aver realizzato il sito nei tempi senza dover chiedere proroghe e alla fine, a completamento di tutta questa operazione, ottenuti anche i soldi perché, ricordiamoci, sono già stati liquidati dal Ministero questi 280.000 euro, alla fine abbiamo, a completamento, abbiamo anche implementato, fatto, realizzato questa app. Grazie a tutti.